Iron Man Oh ma mi hanno detto che fai una brutta fine Visto che Galeazzi ha detto che farò una brutta fine Gli rubo l'unboxing E si ragazzi perché visto che qualche unboxing fa si è scatenato l'inferno Perché ho dato uno spoiler Che poi spoiler ragazzi io ho solamente così dato dei rumor Spoiler ma cosa volete che ne sappia io della fine che farà Iron Man Però ho deciso di prendere su ebay lei che ovviamente poi regalerò a Gabriele Perché io non so che fine farà Iron Man in Endgame Ma per portargli bene ho deciso di indossare questa maschera per questo unboxing E si andrò anche all'anteprima del film Se riesco a toglierla dalla scatola Ed eccolo qua Tony Stark anzi Iron Man che fa questo unboxing a Tony Stark Forse è il naso un pochino troppo lungo Non ci sta la maschera Vabbè ma apriamo questo pacco con i rumori sottofondo di Iron Man che salverà il mondo E farà una bellissima fine E andiamo a vedere questo Huawei P30 Lite Finalmente è arrivato anche lui a completare la gamma E mi fa morire questa maschera dei Huawei, dei P30 Tolgo anche la... zitti? Zitto anche tu è maschera di Iron Man La pellicola davanti Lo accendo E vi faccio vedere cosa c'è in confezione Il caricabatterie rapido Sì c'è scritto Quick Charge Ma non ho ancora i superpoteri Non riesco a leggere quanto è 9V, 2A Quindi 18W di carica La... La possibilità del cavo Dai dimmi che è Type-C Dimmi che è Type-C Dimmi che è Type-C Sì è finalmente Type-C E ce lo dice anche Iron Man Facendo un grande casino E poi qua abbiamo Eh le cuffie Le cuffie auricolari Saranno le solite di Huawei Quelle che troviamo in tutti i medio di gamma Sì non sono quelle del P30 Sono quelle un pochino più cippettose No non c'è la cover La custodia Ma io ho una versione diciamo Dedicata alla stampa E... Ma cavolo ma chiuditi Iron Man Dai che sennò gli spifferi Non ho i superpoteri Oh ce la posso fare Forse l'ho chiusa Ce l'ho fatta Oh forse così sta zitto Ehm... Vi racconto 152 72,7 Spessore 7,4 mm 159 grammi Molto leggero Poi lo configurerò Il display da 6,15 pollici Con la goccettina IPS Full HD Plus 415 ppi Accessione di spegnimento volume Sempre belle le finiture Bella la colorazione dietro Dovrebbe essere in vetro Questo frame dovrebbe essere In metallo Type C Ovviamente è mono L'altoparlante Ma c'è il jack per le cuffie Mantiene quel Forma da lingottino Della serie P30 e P30 Pro Perché è piatto Sia sopra Che sotto Con qua lo slot Per mettere La doppia sim Ehm... Critica alle camere Ragazzi guardate Quanto sono sporgenti Sporgono veramente Tanto 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 E tra l'altro Il bordo è quasi taglientino Va bene per grattarsi le mani 428 la memoria Mi spaventano due cose Ah il Kirin 710 E poi il bluetooth 4.2 Che sui Huawei bluetooth 4.2 Non è mai andato bene Da quando invece hanno montato il 5 Sui modelli top di gamma Invece siamo rientrati in un bluetooth Che funziona bene Ci ho detto Le camere sono tre Non c'è la 2x Ma c'è l'effetto profondità Da 2 megapixel Quella normale Da 8 megapixel Scusate da No quella grandangolare Super grandangolare Da 8 megapixel E poi la principale Che dovrebbe essere Da 48 megapixel C'è scritto qua Ehm... Vi confermo Che sia da 48 megapixel Perché cara Huawei Ti segnalo Che sul tuo sito web Cosa che vado sempre a fare Vedere per non sbagliarle Ehm... Le specifiche C'è scritto Che la camera principale È da 24 E l'anteriore È da 32 In realtà l'anteriore È da 24 E quella posteriore È da 48 Quindi messaggio subliminare 3340 mAh di batteria Sensore di impronte digitale dietro Lo opererò prestissimo No perché Prima di tutto Ah! Ho il Fold da provare Ma tra qualche giorno Arriverà anche lui Vi saluto e ci vediamo All'anteprima Di Endgame Così vedremo effettivamente Che fine farà Iron Man Spero di avergli portato fortuna Ciao All'anteprima 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 Grazie a tutti